Venerdì ci sarà un nuovo incontro relativamente alla problematica della Manuli, una situazione che si trascina ormai da tanto tempo, una delle tante crisi del territorio piceno. Sì, ormai è dal 2007 che la Manuli ha deciso di delocalizzare definitivamente tutto lo stabilimento e pezzo pezzo ci sta riuscendo, vedendo senza tanti ostacoli anche in particolar modo da parte della politica, che in questi anni non è riuscita a fare una legge contro le delocalizzazioni. Quindi ci fa pensare che spesso in questa situazione c'è una connivenza tra politica e potere economico in questo Paese. Certamente noi stiamo cercando di salvaguardare il più possibile tutti i posti di lavoro dell'attuale compagine lavorativa che è rimasta appena a 153 dipendenti. Ci auguriamo di riuscire, spingendo l'imprenditore, ad investire nel territorio, in particolar modo in quei settori dove c'è un'alta redditività. E quindi una di queste soluzioni, ma ce ne sta qualche soluzione, qualche attività invece che nel Piceno si è evoluta positivamente rispetto alla Manuli? Beh, guardi, noi stiamo seguendo parecchie vertenze, vedi l'Angelini, vedi anche altre aziende che seguiamo sul territorio, però purtroppo margini di riuscite ce ne sono poche. Sono più le aziende che chiudono sul territorio che quelle che riusciamo a far mantenere aperte. Ci auguriamo comunque anche qui un intervento della Regione, che sono ormai più di qualche mese che cerchiamo di incontrare, ma non si riesce a portare al tavolo per far rendere conto alla Regione e chi segue il settore lavoro della grande problematica della provincia di Ascoli Piceno. Più di 20.000 disoccupati in questi ultimi anni segna un problema all'economia del territorio, che si ripercuote assolutamente anche nel commercio. Quindi noi ci auguriamo anche con l'aiuto della Regione, come ha aiutato altri settori nell'Alto Marche, anche nel territorio Piceno, e speriamo di riuscire a farci dare un aiuto concreto a questa azienda che vuole investire comunque in un nuovo progetto imprenditoriale. Ce la metteremo tutta avanti anche perché noi dobbiamo assolutamente salvare tutti i posti di lavoro. Il Piceno può diventare area di crisi complessa? Su questo campo ci sono tutti i presupposti. La vertenza Prismian, la ricordiamo di qualche mese fa, aveva aperto un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, presieduto proprio dal Ministro Guidi, che si è arenato a livello nazionale e anche a livello regionale. Ogni giorno noi come sindacato, l'USB, chiede di tornare al tavolo e di riaprire, perché questo è un territorio che ha tutti i presupposti per avere un riconoscimento come territorio altamente gravato dalle perdite di posti di lavoro e quindi un riconoscimento particolare per aiutare anche futuri imprenditori che vogliono investire su questo territorio e ridare posti di lavoro.